ragazzi ben ritrovati su roboblox non so se caricarvi sul primo canale o secondo canale sti video datemi dei consigli in chat e sono con akimbo vanessa e thomas buonasera ciao ragazzi anche oggi su roblox si è notte fonda oh sono entrato per il cremare e automaticamente mi ha roddato la mia cosa e beh mi sembra giusto è normale devo fare l'odd no io anche mi sono portato un po avanti no 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 sei già l'odd e io chi sono adesso ho 49k non mi ricordo più che cazzo non è arrivato io noi registriamo il tuo gioco ragazzi sempre alle due e mezza del mattino sempre i soldi eccolo io non mi ricordo che cazzo dovevo fare e anche a me è caricato subito non mi interessano al momento era il terzo piano non mi ricordo giuro non mi ricordo raga ma chi è no ci sono ci sono se ne andate a prendere allora il terzo piano a ecco i dropperi devo fare 350.000 io c'ho due sono io 72k ma 72k poi io non mi faccio per 120.000 non mi faccio pena io io ne ho 75 no no vabbè però faccio un sacco di soldi ragazzi ora c'ho 150k me ne servono 350 vabbè ah sto ladro vado fuori se vado a prendere un'arma vedi tu come ti combino voi ho sentito cosa è trucca mi sparano pezzi di papà eh sentite cosa ha detto vado fuori eh ma non aveva detto lui infatti io lo sto aspettando lo schifo lo sto aspettando fuori buy rocket giver cos'è buy pistol giver ah no sono i cosi le armi prende funzionano non mi interessa giocare con voi ragazzi questi video saranno moschissimi registriamo di notte però non vi ricarichiamo perché perché tanti di voi vi piaccuono piaccuono e forse ricarico su look in loop i primi due episodi allora se questo video lo state vedendo su look in loop i primi due episodi sono sul mio canale se questo video lo state guardando sul mio primo canale il prossimo sarà su look in loop per cui ve l'ho già detto iscrivetevi il link in descrizione attivate la campanellina e scioglietti a thomas salutate vanessa e picchiate a kimbo esatto che già mi ha sparato e mi ha ucciso ma non si fa a kimbo alle donne non si fa ma mi sembra giusto a kimbo mi sparo attraverso i muri ma perchè non si fa a kimbo eh capo vado fuori a prendere le casse vado sto scherzandomi che già sparano ma basta non si fa a kimbo eh che aggiornamento ha fatto in basso a destra io vedo i soldi c'era anche la volta scorsi c'era anche prima eh c'è sempre stato sono in costronto guarda in alto a destra si no abbiamo avuto su cui state morare noi noi oggi oggi ho fatto giocare mia moglie a sto gioco e perchè stava giocando mio figlio dennis e mia moglie non ha mai giocato a sto gioco si è innamorata anche lei a posto è veramente bello si è messo a fare delle mcdonald ma porca miseria guarda 430 mila ah mio figlio si è incazzato raga perchè ha visto il video di roblox di oggi e mi fa perchè non mi hai chiamato perchè il poverino vuol registrare anche lui oggi gli ho sentito i capelli alla cristiano ronaldo si si perchè ha voluto la riga ah è vero l'ho visto l'ho visto ma è te con i codini invece non lo ricordi allora andate a vedere la mia foto su instagram ragazzi mia figlia mia figlia ogni tanto mi usa come bambola viene e mi dice papà ti posso pettinare oppure papà ti posso truccare per esempio poi non è che mi trucca mi mette 4 cagate no io non è che dico eh si perchè sono gay perchè mi rilasso capito e oggi si è messa lì a pettinarmi mi ha riempito la testa di codini mia moglie ha fatto la foto e alla fine l'ho messa su instagram nuovo look mamma mia mentre l'altro mia figlia Aurora raga ha un anno e mezzo non è che oggi si è messa il rossetto da sola che gli ha rubato il rossetto alla sorella e poi ha truccato tutte le bambole ha messo il rossetto a tutte le bambole i bambini ragazzi veramente non sono come una volta cioè i bambini nascono intelligenti c'è un cazzo da fare sono molto più svegli molto più oh questo sputa fuori cos'è perchè il mio dropper sputa fuori no comunque io faccio pochi soldi anch'io anch'io voi pochissimi si pochi vaga c'è un dropper che mi sputa addosso eh mi ha ucciso eh sto delinquente oh eh io mori a casa poi sei fortunato guarda che ti picchio da qua guarda che ti picchio da qua guarda che ti picchio da qua ok l'hai voluto tu mille e cinque solo lo hai voluto tu un'altra cassa verde 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 è uscito è uscito è uscito vabbè ma voi siete già sopra io sono al terzo piano ancora voi al quinto ma va guarda guarda come scappa in casa guarda come scappa in casa ma chi ma chi è endovina sicuro lui ho capito raga mi hai aiutato c'ho il dropper rosso che mi sputa fuori come sputa fuori vabbè non ve lo dico più ma perchè c'ho il gatto infilato nel computer oh ehi ma chi è che è uscito e scappa no è perchè mi sparato è endovina endovina ma voi giocate o camperate a casa mia sapete che ho scoperto un bug oggi grazie a mio figlio allora raga mio figlio cioè io cosa vi dico a fare quello un genio allora avete presente che le persone si chiudono in casa con i vetri tipo al mcdonald faranno la metrata e si chiudono in casa sapete com'è il modo un bug per penetrare gli appartamenti eh dai dire uno se lo sapete c'è un bug per penetrare gli appartamenti ma va ragazzi avete presente il tappeto il coso di aradino quello colorato sotto i piedi il tappeto volante lo metti contro lo tieni in mano ti metti contro il muro clicchi il tasto destro lo metti in mano e ti entra eh ma qua non funziona non c'è il tappetino ve lo giuro c'è mio figlio conosci i bug e io non lo sapevo ah 360.000 l'ho fatta subito per cui questo può valutare nel pensiero ideale che eh in poche parole eh facci più i soldi eh sto attivando il il timer il conometro Thomas Thomas c'è una scaletta vai ho fatto partire il conometro io parlo ragazzi non perché voglio parlare perché sennò mi addormento ma basta spararmi basta no fuori da casa mia ragazzi non creare il cazzo veramente tranquillo chiudo il gioco o l'ho letto dai no si chiudo il gioco o l'ho letto sono da letto ormai sono da letto Thomas stavolmente vai 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 facciamo scaletta vai sto sognando vai ma chi mi compra la pistola e gli sparo non fai togli l'arma togli l'arma aspetta togli l'arma mi compra la pistola mi hai capito vai allora vai pistol giver vai scappa scappa ma c'è la pistola pupa tanto ma tanto c'è la pistola scarica ma la pistola che non sparo ho preso pure e l'ho pagata pure 25.000 ora compra il mitra sopra aspetta è sopra è sopra tanto lo becchiamo vai sono sopra tanto lo becchiamo sono sopra mi rifiuto di uscire guarda come spara guarda come spara guarda come spara guarda come spara non lo vedete sono sopra non lo so ho visto i colpi passare da sopra dai muri sono sopra sono sopra eccole eccole nelle scale vai weapon andiamo un po oh un bel mitra andiamo un po tre l'ho beccato adesso scappi dove cazzo sei io guarda 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 l'ho preso in testa cazzo fa là sotto quello guarda guarda ma non mi sa scendere con l'arma no allora voi siete bagate di merda voi sparate oltre i muri non vale così non vale sparare oltre i muri però ragazzi è uscito è uscito è uscito ah no se tu sei vai qua sopra c'era cassa gialla ma dov'è no vai sopra il terzo piano quanti soldi mi davano le cassa gialle eccolo eh il problema è prenderle ma non ce la sottomira non lo vedo io eccolo ma che vuoi fare ma che vuoi fare l'hettato l'hettato ma posso capire che cazzo siete ho più di colpi che colpi mi arrivano da qua ah eccovi oh guarda l'abbiamo ammazzato è morto si cazzarvi oh hai tolto le palle ve lo dico eh ve lo dico l'ho visto uno ma l'ho visto andrà a comprare l'arma ahia 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 sono io quello ma scusa ma se io sparo attraverso ti arriva eh si ragazzi c'è un problema arrivo fino dall'altra parte guarda ho preso l'arma in mano mi ero incastrato nel muro è normale l'arma è baggatissima perché ero sdraiato vieni fuori sotto sul tuo muro di casa ma non mi fa andare guarda vediamo se mi baggo sotto aspetta 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 vediamo se mi baggo guarda guardalo guardalo ahia 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 morto guarda che camper ahia 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 dai dove sei hai paura adesso dai non ci possiamo far battere dai due contro uno ti ammazzo ti ammazzo ti ammazzo vieni qua non crepa non crepa dove sei no l'ho ucciso ma c'ha mezzo cazzo di cuore c'ha ok ragazzi vedete non mi fanno giocare vediamo se mi riesco a baggare la lotta inizia vediamo se mi riesco a baggare l'avete dovuto voi guarda Thomas Thomas sto cadendo ma come stai cadendo dove sono cadendo giù ragazzi ho un problema mi sdrai a terra quando prendo l'arma ho perso casa mia come hai perso casa ah ok quella lì allora ucciso grazie grazie togli l'arma vieni si si arrivo aspetta aspetta a sparare aspetta guarda sta cosa si si aspetta a sparare è che sei pure storto guardate i miei soldi togli l'arma vieni qua vieni vieni qua togli l'arma eh salta sopra non mi fa saltare eh metti l'arma eh ma che cazzo continuo a farlo che cadi sotto la casa faccio il capriole dai Manu ti sparo l'asdraiato guarda 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 morto adesso mi lasciate in pace dipende non credo aspetta che prendo il bazooka mi lasciate in pace adesso è vero il bazooka dov'è va che lo compro anch'io non ce l'hai ma che lo compro anch'io non ce l'hai non ce l'hai ce l'abbiamo solo noi ma io che faccio a conti i soldi adesso non mi servono più a niente io sto spendendo tutto eh io ho speso due milioni ho speso ma devo andare pieni di sopra non ho capito eh si no ma va vai che vuoi fare scusare i pieni di sopra ok apricate walls ma che devo fare adesso non ho capito io si continua a comprare eh si i dropper sono finiti no cadono in continuazione non finiscono mai hai capito ci sono altri dropper da fare pizzeca guarda io dove sono dove sei ma non ho capito ci sono altri dropper è pieno è pieno è pieno di drop ma devo comprare tutte ste cose armi ma va alla fine andrò a fare i dropper al piano di sopra giusto io mi incastro sempre nelle scale eh si ma ragazzi non mi fa comprare il piano di sopra eh perché si è a corto di soldi no perché l'ho già comprato eh allora no ma va bene buy a mastic repile drill che vuol dire è quello viola l'ho appena comprato anch'io aspetta che qua sta cosa mi mi incuriosisce molto parecchio beh cazzo tra un piano e l'altro ce n'è di spazio però eh ma voglio e non poco 275.000 questo 430.000 ok sono molto contento di quello che ho detto poc'anzi perché faccio pochi soldi adesso ma che kappa perché faccio pochi soldi ok come pochi soldi 270.000 andiamo un po' guarda a comprare le pile drill che mi quello viola non lo so ma da tanto oddio io non vedo tantissima differenza ma da un pisellino giallo quello da poca vediamo io quanto costa quello che devo fare io 340 io costo 510.000 340 questo è il piano di sopra non mi interessa il mio 650.000 ah hai già preso l'altro quello da 510 no 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 questo non lo compro ma ragazzi c'è sto coso il rosso mi spara fuori però in effetti compro prima quello a me il rosso mi spara fuori eh manca a me ogni tanto qualcuno me ne esce fuori ho salvato perché almeno ah è vero raga non ci dimentichiamo per carità non mi rompite le spalle oh la cassa gialla bianca davanti a me la cassa gialla mi da oh non mi da niente guarda 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 che gliela foto guarda che gliela foto perché non la prende te la foto io perché non la prende perché c'è l'arma in mano presa 23.000 ringrazio che te l'ho fatta prendere guarda ma ammazza pure sto stendo guarda guarda che storto pure stai morendo faccia la pirla stai storto guarda hai paura guarda che non riesci a prendermi hai paura che stai morendo guardalo aspetta lo sto vedendo ma se sei rosso rosso ti manca un colpo e muori bastardo guarda io non scendo mi gusto la scena dall'alto per carità di dio oh posso prendere l'altro quale l'altro mi sono ribaltato aspetta che ti dico no 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 mi sono incastrato no ho entrato in muri ma sarò coglione ah ci godo ah non sei quanto ci sto codendo codendo va bene codendo dai che mi spara ma finiamo? ma dai ho speso i soldi per comprare un'altra arma di merda ragazzi ci sono i cecchini ci sono ragazzi 340.000 sto comprando l'altro di fianco a quello viola ci sono i cecchini ci sono sto comprando quello di fianco a quello viola Vanessa ecco tu l'hai comprato? allora sì io uno l'ho preso il problema è che 480 il prossimo non mi sembra che va molto più veloce non mi ha fatto morire finché c'è la gente che mi spara porca puttappa è morto dal tetto Manu sono ubriaco anche sto gioco io non ci credo ma allora 84.000 allora non faccio così tanti soldi no cioè fai le cose avanzate che costano un sacco ma non è che i soldi eh porca miseria però io dovrei comprare il quinto piano mannaggia vai vai valla a comprare eh vai prima finisco il quarto vai 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 ho sbaglio ho sbaglio o sbaglio? ho sbaglio ho sbaglio davanti a casa mia e me sparate noi ma va no ma va ma certo io sono a casa mia sul tetto importunare le genti non si importuna così una signora non solo una signora oh guardalo è morto a Kimbo guarda che merda là dietro oh questa è vendetta vai calla addio qui parte la vendetta guarda 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 ma adesso che ti spara Luca ma se sto dentro io guarda la scappa ma che animali ve no sono morto eh che a posto ho voluto che c'era la vendetta sono un cechino ma tu mi ho ucciso certo no no io sono un cechino sono un cechino che 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 non c'ho l'arma per che sto andando no basta spararmi vi prego non hanno pietà ma non è l'alleanza basta perché ti ho mangiato basta ho difeso mio fratello basta questa è guerra ho paura che lo kill ho capito ok ok l'avete voluto voi allora io sono uno contro tutti basta questo è guerra ah basta 30 quanto costa l'avete voluto dai i soldi li fa abbastanza in fretta 400 mila cose ho fatto già 480 costa tua madre è una stronza eh ah 430 era il quinto piano tu hai preso l'arma più potente hai preso ma sapete che se mia nonna pesciasse benzina io lo sarei ricco eravamo ricchi in tre bom 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 bam oh quello verde dopo quello viola esberalda eh 510 mila costa porca facci du prez ah facci du prez sono cari sono cari ma qui oh raga c'è la cassa gialla e sopra due casse verdi guardate non mi sparate dai vi prego avete visto sì vi è mai capitato eh va una è sparita porca porca mamma mia 15.000 più 1.900 non mi sparate vi prego dai vi prego non mi sparate che zanza che zanza che volevo attaccare avete visto eh l'avete visto voi l'avete visto voi questa è una scappa voleva truffarmi a me voleva truffarmi sono molto durante le porte vabbè ma io qui ho dimenticato un dropper ma sono rimbambita Vanessa mi picchiano non ti faccio pena mi faccio pena anch'io se la prendono sempre anche con me non esco più chi è il cecchino chi cazzo è il cecchino ma il cecchino è un'arma no ma tu sei un'arma un milione e sei è un fan Manu quei cosi che ho preso il nuovo upgrade fanno brutto sto facendo un sacco di soldi io non sto facendo un car ragazzi Vicuz ha detto che ha finito il gioco qua no questo qua secondo voi ha scioppato ma non l'ha finito come non l'ha finito che mancava ancora tutto l'ultimo piano ma se te l'ha finito no allora costa 510 mi hanno detto minchia ma che mi salgono di brutto i soldi ragazzi no no vane vai che salgono adesso io ne sto facendo veramente tanti a me ne sta producendo adesso va a me ne sta producendo